E' una storia che avrei voluto raccontare da tanto tempo, ci siamo conosciuti nel 1979, siamo fino a 2022, però i bellissimi ricordi, la storia degli ultras, la storia del calcio qui a Bari passa anche da Alberto. Stiamo entrando proprio nello storico della vittoria per parlarne insieme. Una maglia, un simbolo, una storia. L'abbiamo in parte vissuta insieme, siamo tornati qui, sul luogo dove abbiamo tifato, abbiamo sofferto, abbiamo pianto, abbiamo gioito. Qual è la prima cosa che ti viene in mente Alberto? La prima cosa che mi viene in mente è l'emozione grandissima di rientrare in questo stadio, questo stadio dove io praticamente sono nato, sono nato a livello di ultras perché ho incominciato nel 79, nel 79-80 su questi gradoni mitici. All'epoca sembrava uno stadio fantasmagorico perché era uno dei più belli d'Italia comunque, si riempiva sempre ogni domenica, era un'emozione veramente forte. E' la stessa emozione che provo ogni volta, raramente, che entro in questo stadio. Un libro molto bello che ho letto tanti anni fa di Beppe Viola che diceva storie di vita vere vissute. Quella che abbiamo vissuto insieme è stata una vita vera, una vita bellissima. Ma quante ore di preparazione per ritmare i tamburi, per sostenere la squadra? Che cosa accadeva in settimana? Mi ricordo che i primi tempi, la mattina incominciava alle 9, perché noi venivamo qui, montavamo gli striscioni, poi uscivamo, rimanevamo tutti insieme. Molto spesso andavamo in un'inoteca che è vicino, quella che si chiama Complanare, che una volta si chiamava la Moscia. Tornavamo tutti quanti indietro, ci bevevamo una birra, mangiavamo un panino e poi tornavamo allo stadio verso mezzogiorno, luna, in tempo per la partita che era la domenica alle 3, come sempre. Ma voglio dire che la nostra giornata incominciava da molto presto, anzi, mi ricordo che addirittura qualche volta, anche personalmente, mi sono chiuso nello stanzino degli striscioni perché a volte capitava che non avessimo il biglietto. E allora in 2, 3, in 5 ci nascondavamo, ci chiudavamo da dietro, quindi dalle 9 fino all'1, in mezzo alle 2 che aprivano le porte, noi rimanevamo chiusi in silenzio, tra l'altro per non farci sentire dalla polizia, dagli altri addetti che andavano in giro per lo stadio, per controllare lo stadio. Ecco, sono piccoli aneddoti che chi ha vissuto quei tempi li conosce bene, come per esempio sopra la curva nord, per evitare la gabbia dei leoni, come si chiamava una volta, perché ci si stringeva tutti, c'era al primo piano un buco dove noi ragazzi, all'epoca, 15-16 anni, ci arrampicavamo e si usciva dentro a un archivio, un deposito di libri, un archivio del comune era, che poi purtroppo è stato sicuramente devastato e distrutto quando qui vennero gli albanesi. Più che c'era una volta e quando uno poi vive una storia la porta sempre con sé. Noi siamo proprio nel luogo dove tanti anni fa Alberto e i suoi amici, ma anche chi vi parla, suonavano i tamburi durante la partita per incoraggiare i biancorossi. Alberto, qualche brivido viene anche a me. Eh sì, dici bene, siamo proprio nel posto dove tutto è incominciato. Nel 76 per me è incominciato qualche anno più tardi, ma è qui che è tutto incominciato, il movimento ultrasibale è incominciato da qui, grazie a Florio. Anzi, mi fa piacere vedere di come sia ben ristrutturato, ben messo tutto sommato, anche se qui non si gioca più al calcio, si gioca al rugby, però voglio dire complimenti a non so a chi, all'assessore probabilmente, a chi ha voluto comunque che questa struttura continuasse a vivere in qualche modo e comunque sia in condizioni, mi pare, abbastanza buone anche a parte di campo. E' un invito quello di Alberto perché si possa riportare qui il calcio e soprattutto possano venire le squadre giovanili perché giocare su questo campo, per chi ha calcato in quegli anni, fa davvero un grandissimo effetto ricordando che c'erano 35.000 sulla carta, ma tante volte eravamo molti di più. Oh, a voglia, eravamo molti, molti di più. C'erano le partite di cartello, per esempio, che qui non si poteva stare. Mi ricordo un bar di Sampdoria, l'anno che non andammo in Serie A, c'era una coda qui in Curva Nord, tant'è che io dovessi entrare dalla tribuna, mi fecero entrare dalla tribuna perché bisognava organizzare una coreografia e non avevo naturalmente il tempo di fare la coda, ma mi ricordo che la coda arrivava dallo stadio fino alla biglietteria di fronte della fila del Levante, quindi era una fila enorme, ore e ore di attesa per poi entrare nella gabbia dei leoni, per poi strappare il biglietto, per poi salire su in Curva, organizzare. C'era tutto un lavoro propedeutico, naturalmente, da fare prima di incominciare la partita. Prima che incominci la partita c'era tutto un lavoro propedeutico da fare. E noi venivamo sempre la mattina, però poi quando avevamo difficoltà dovevamo entrare per forza la tribuna. Per fortuna, all'epoca, la società era condiscendente, era amica, capivano i nostri problemi, quindi ci consentiva questo. E tornavamo da sotto al tunnel e tornavamo in Curva da qui sotto al tunnel. È leggermente cambiata l'architettura dello stadio, ma voglio dire, c'è sempre la continuità della vacuna. Prima era tutta continua, ora invece è intervallata per motivi probabilmente di sicurezza, perché qui si fanno anche i concerti. Quindi, naturalmente ci si è dovuto adeguare quelle che sono le normative vigenti, ma all'epoca diciamo che qui era proprio una volgia. Tanti ricordi fantastici, tanti ragazzi che poi sono cresciuti, uomini, donne, non c'era alcuna distinzione, si era tutti a lottare per questa maglia. Coincidenza, proprio 24 ore fa, il Bari ha preso 9 premi in una famosa manifestazione sportiva. Tra questi anche quelli dedicati, quello dedicato alla tifoseria. Avete fatto tanta strada, avete costruito un gruppo che ancora oggi fa grandi colori, grandi coreografie, grandi effetti. Beh, certo si cresce, però non ci scordiamo le invasioni dei baresi a Bologna per gli spareggi o altre trasferte di massa, ma veramente di massa, di migliaia di persone. Parlo già degli anni in cui io non c'ero ancora, ma ricordo benissimo perché dei racconti dei miei zii, di mio nonno e di altri vecchi tifosi che io conosco benissimo. Già negli anni 70, nel 72, nel 73 ci si muoveva in massa. A Bologna ancora ricordano il nostro oeste in occasione degli spareggi. Ciò che succede tuttora, non ci scordiamo che non più di dieci anni fa a Roma eravamo 12.000 e adesso dove andiamo andiamo? Purtroppo ora ci sono delle istruzioni legate ai biglietti della testa del tifoso, tante piccole difficoltà, tante piccole e grandi difficoltà che gli ultras odierni, tutti gli ultras d'Italia, non soltanto a Bari, tutti gli ultras d'Italia purtroppo subiscono. E quindi bisogna adeguarsi anche a questo, quindi fare il biglietto con molto anticipo, sempre online, la testa del tifoso, organizzare le trasferte non è facile, i posti contingentati per i settori ospiti, tante piccole cose che fondamentalmente servono a dissuadere il tifoso dall'andare in trasferta. Probabilmente il tifoso in trasferta è scomodo perché ci vogliono le forze dell'ordine sulla strada, ci vogliono le forze dell'ordine nei caissieri autostradali, ci vogliono le forze dell'ordine nelle stazioni, ci vogliono le forze dell'ordine negli stadi, quindi è tutto commisurato al numero di tifosi che si spostano. Quindi secondo me è una piccola strategia per evitare che succedano le cose che sono successe nel passato, perché non ci scordiamo che prima ogni domenica sera o ogni domenica mattina a Bologna come a Milano, che è una via di intersezione di molte tifoserie, perché prima si viaggiava soprattutto in treno, quindi Bologna era un crocevia di tutti quelli che andavano a nord e di quelli che scendevano verso il centro e il sud e gli orari più o meno coincidevano e non dico ogni domenica, ma una domenica sì e una domenica no, succedevano sempre fatti poco piacevoli, soprattutto perché coinvolgevano anche persone che non erano ultras come noi, tifosi come noi. Alberto, la cosa che viene in mente quando poi uno guarda uno stadio, una coreografia, la presenza di tanti giovani, secondo te qual è il motivo dominante? Lo siamo stati anche noi, siamo venuti poi vivere la partita in curva nord, vivere la partita con gli ultras del Bari? Beh, è normale che i giovani si avvicinino a noi, basta vedere i numeri degli abbonamenti fatti ogni anno, diciamo che 75 se non l'80% è in curva nord, perché la gente sente la curva nord come il cuore del tifo, come in effetti è vero che sia, perché diciamoci la verità, il resto dello stadio partecipa, partecipa sempre sulla scia, sull'onda dell'input della curva, il batti mano, i cori, i tamburi, tante altre cose, l'input viene sempre dalla curva, poi il resto dello stadio segue, in maniera critica o meno, mentre noi invece questa critica non riusciamo a farla, perché noi facciamo il tifo a prescindere, siamo comunque contenti, forse è antisportivo dire che un rigore al novantesimo non regolare, diciamo come si diceva una volta, un rigore rubato o un gol rubato, al tifoso fa piacere, se allo sportivo potrebbe non fare piacere, perché la sportività viene prima di tutto, noi siamo meno sportivi e più tifosi, siamo più attaccati alla maglia, ecco perché quando i giocatori certe volte non danno il massimo dell'impegno, noi siamo portati a fischiarli, a prescindere se la settimana prima abbia segnato due gol o un gol abbia giocato benissimo, se quel giorno non gioca bene o non gioca bene per due o tre partite di seguito, ci viene spontaneo il fatto di fischiarlo o di criticarlo, ma questo dipende dalla nostra passione intrinseca, perché quando noi usciamo dallo stadio il tifoso normale magari va a casa, è tutto a posto, noi invece appena usciamo dallo stadio abbiamo già da organizzare la trasferta, naturalmente la trasferta risente nei numeri anche di quelli che sono risultati in campo, allora io mi ricordo tanti anni fa abbiamo criticato persino Maiellaro, quindi perché Maiellaro veniva dal Taranto, andammo a Taranto a giocare, Maiellaro fece una bruttissima partita, il martedì dopo venimo qui fuori allo stadio alla porticina di ferro che una volta chiudeva gli spogliatoi e venimo a fare le nostre rimostranze, anche a Pietro Maiellaro che voglio dire era al di sopra di ogni sospetto, ma tante altre volte è capitato che i giocatori non rendessero al massimo, è capitato persino con Giovanni Loseto, Giovanni Loseto mi ricordo che in quel periodo, l'ultimo periodo, aveva un problema alla schiena e giocava al 50% delle sue possibilità, quando noi chiedemmo Gianni siamo amici, sì però cerca magari di lasciare il posto a un altro che può dare di più di te, lui invece ci rispose ma come? Io mi sto sacrificando per voi, mi sto sacrificando per la maglia, ma noi gli facciamo capire che noi rispettavamo il suo sacrificio, ma che in quel momento, in quel frangente, in quella situazione c'era bisogno di un'altra persona a posto suo, che non si chiamasse Giovanni Loseto, a noi interessava poco, voglio dire a noi serviva un giocatore funzionale a quel ruolo. Alberto mancano pochi mesi a maggio e giugno, il Bari è in quella posizione, sta giocando bene a un tifo che sostiene la squadra del Presidente De Laurentiis, chissà, quel sogno secondo te, senza nominarlo, si potrà concretizzare? Ci credi? Io attenderei un pochino, ma non perché non sono fiducioso, ma perché le parole comunque in conferenza stampa, le dichiarazioni anche del direttore, non sono state così incoraggianti, ha sempre parlato di un programma trennale, non è stato mai molto chiaro, forse il barese avrebbe preferito una parola un po' meno vera, ma più incoraggiante, sembra quasi che questo campionato debba essere per forza anonimo e questo ai tifosi del Bari non basta, sarebbe una delusione, benché ci rendiamo conto che la Serie B di quest'anno è abbastanza forte, ora si capisce che è livellata, non è più tanto forte come si pensava all'inizio con delle quadri di punta tipo Cagliari, Genoa e altre che invece non stanno rendendo in maniera ottimale e ci rendiamo conto che questo potrebbe essere un vantaggio, una cosa di favore per il Bari. Si vedrà, secondo me, la vera intenzione di andare in Serie A o meno, avendo i punti in tasca per gennaio, punti in tasca per poter ragionare in un'ottica di promozione e non di permanenza tranquilla, come si interverrà sul mercato? Perché io non sono un tecnico, non ne intendo più di tanto di calcio, però sembra che manchi qualche pedina che potrebbe diventare fondamentale per un'eventuale promozione. A prescindere dalle leggi del calcio, di chi diventerà o sarà il presidente l'anno prossimo se riusciamo a centrare la prima lettera dell'alfabeto, ma noi, dice Alberto, ci saremo sempre, a prescindere. Grazie per questa intervista molto bella, molto sentita, ti sei emozionato perché tanti anni non si cancellano, anzi ricordarli è una cosa bellissima, l'abbiamo fatto insieme. Certo, certo, però ricordiamoci anche che qui abbiamo vissuto un terzo della nostra vita, perché la gran parte del mio essere Ultras, della mia vita da Ultras, oramai l'ho trascorsa al nuovo stadio San Nicola, per questo stadio l'abbiamo lasciato, io l'ho vissuto per 15 anni, mentre vivo da 32 lo stadio nuovo, quindi questa è sempre un'emozione perché qui dove sei nato, qui sono le tue origini, è quello il brivido che ti porta qui, ma non scordiamoci anche quello che abbiamo fatto allo stadio, le coreografie fantasmagoriche, benché quello sia uno stadio antitifo, e soprattutto voglio ricordare che la tifoseria è stata attaccata al Bari, come tu dicevi bene Enzo, è stata attaccata al Bari anche in Serie D, perché in Serie D ci hanno messo delle trasferte pazzesche da Troina, dalla Sicilia, dalla Calabria, di posti assurdi dove mai avremmo pensato, dove non c'erano neanche gli stadi, mai avremmo pensato di poter andare a giocare, ma comunque sia l'attaccamento che la Curva Nord ha dato anche nelle serie, io ho fatto la Serie C qui, quindi all'epoca abbiamo fatto la Serie C, ma la Serie D è tutt'altra cosa, è molto peggio, quindi onore ai ragazzi, come anch'io, ma onore ai ragazzi che tuttora organizzano, si danno da fare, è quello che hanno fatto in Serie D, è importantissimo, ecco perché anche in virtù di questo noi riusciamo a essere credibili a livello ultra, a livello di tifoseria, per quello che abbiamo fatto, per i numeri che portiamo. Grazie Alberto, ogni promessa è debito, ci vediamo allo Stadio Nuovo, al San Nicola per continuare questo cammino. Eh certo, finché ci avremo la forza di farlo, sì, finché ci sarà un ricambio generazionale, sì, purtroppo negli ultimi anni stiamo subendo, negli ultimi dieci anni oramai, stiamo subendo un attacco non mediatico, ma legislativo e ora i ragazzi rischiano, ci sono molti ragazzi che vanno a firmare tre volte a partita, quindi gli stravolgono anche la vita, oltre le varie di lo stadio, gli stravolgono anche la vita, perché ogni partita andrà a firmare tre volte, anche se il Bari gioca a mille chilometri di distanza, per quanto assurdo possa sembrare, bisogna andare a firmare tre volte a partita, anche se sarebbe impossibile raggiungere la squadra anche dopo la prima firma, eppure è un metodo coercitivo che tende ad allontanare, o meglio, chi ha avuto già un daspo, tende ad allontanarsi da quello che è il mondo ultras, perché il mondo ultras è diventato oramai rischioso, rischioso per la libertà personale che ci consente di riempire la curva per tre o quattro, cinque petri allo stadio nuovo, quindi vuol dire diecimila, ottomila persone che seguono costantemente, incessantemente e fanno il tifo, nonostante tutte le difficoltà.